Il tema della sicurezza diventa focale nei centri italiani, in particolare quello della sicurezza nelle periferie dove si registrano maggiori episodi di violenza e proprio parecchie campagne elettorali in questo momento e anche preparazione delle prossime campagne elettorali si basano su questo tema, quello di fronteggiare nei modi ritenuti migliori un problema che era rimasto sopito probabilmente nei mesi del Covid e che invece adesso sta dando parecchi segnali di recrudescenza, segnali che preoccupano non soltanto le forze dell'ordine ma anche gli amministratori. A Pescara è stato deciso proprio questa settimana di abbattere quello che era stato definito uno dei santuari dell'illegalità, il cosiddetto ferro di cavallo, il palazzone con oltre 100 appartamenti che diventava un centro anche di spaccio e dove sono stati tanti episodi di violenza e anche degli omicidi. Intanto una decisione storica per il Comune Adriatico, noi abbiamo in collegamento Sara Del Vecchio che tra altre cose ha seguito anche questi momenti e queste scelte da parte del Comune Adriatico. Sara, un momento da questo punto di vista che può diventare anche poi un punto di riferimento anche per altri comuni italiani può diventare una scelta pilota da un certo punto di vista perché è una soluzione questa drastica, sicuramente non facile. Sara, a te. Sì, buongiorno a voi. In consiglio comunale è stata praticamente approvata la delibera per l'abbattimento del ferro di cavallo, il complesso di case Ater che si trova proprio nel quartiere Rancitelli di Pescara, Rancitelli Villa del Fuoco per chi non conosce bene la città. È un quartiere appunto ai margini dove spesso accadono fatti di cronaca che poi vengono riportati anche dalle testate nazionali, in particolare per quanto riguarda lo spaccio di eroina e cocaina proprio all'interno di questo complesso di case Ater. Il sindaco fin dal suo insediamento aveva deciso, comunque aveva optato per la soluzione dell'abbattimento, abbattimento che però prevede anche una riqualificazione. Adesso è stata appunto messa a nero sul bianco con una delibera tra l'altro c'è un progetto dell'Ater che praticamente è stato già approvato appunto dall'Ater e dall'amministrazione comunale e quindi si è decisi per andare avanti su questo percorso. Un percorso che prevede come appunto anticipato una riqualificazione perché verranno appunto ricostruite queste case in maniera totalmente diversa da quelle che abbiamo adesso. Adesso ci sono tantissimi mini appartamenti con dei balconi minuscoli e invece l'idea del progetto del sindaco Carnomasci è quella di realizzare meno appartamenti, quindi passiamo a 56 alloggi dai oltre 100 attuali e lui dice si verranno realizzate anche delle piazze, quindi verrà curato anche il verde pubblico per creare questi spazi di integrazione e di condivisione e poi soprattutto queste case, questi appartamenti avranno anche dei balconi più larghi. Questo è quello che ha detto proprio nel momento in cui in Consiglio Comunale si è passato all'approvazione di questa delibera. Una decisione storica Sara, una decisione storica dicevo che in ogni caso scelta drastica potrebbe rappresentare anche un precedente anche per altri comuni italiani perché ci sono situazioni simili anche in tante altre realtà non soltanto periferiche. dicevo a questo proposito andiamo a vedere il servizio proprio sul ferro di cavallo di Pescara e poi rientriamo in studio per cercare di valutare anche questo aspetto. A tra poco. È una decisione storica per il comune di Pescara, il ferro di cavallo sarà abbattuto a partire dal 2023, il palazzone del quartiere Rancitelli diventato negli anni simbolo di illegalità e teatro di spaccio e crimini efferati verrà buttato giù e ricostruito. A deciderlo la variante urbanistica votata dal Consiglio Comunale Adriatico che al suo posto prevede la costruzione di due moderni fabbricati con 56 alloggi, una piazza, spazi verdi e dei parcheggi. La delibera è passata con 18 voti favorevoli della maggioranza e 7 contrari, quelli della minoranza dopo il doppio rinvio nei giorni scorsi per problemi tecnici. Secondo l'amministrazione si potrà procedere all'abbattimento dell'edificio con 120 appartamenti dove per anni si sono annidati abusivi dopo aver provveduto al trasferimento dei cittadini in regola con le assegnazioni dell'Ate. Al ferro di cavallo realizzeremo al posto di 110 appartamenti 53 appartamenti, ma come li realizzeremo? Appartamenti di qualità, perché non sta scritto da nessuna parte che le case di edilizia residenziale pubblica debbano avere per esempio i balconi di un metro e venti e non possano averli di due metri e cinquanta come invece noi li realizzeremo, perché dopo il Covid il paradigma delle case è cambiato totalmente. Oggi occorrono spazi privati ampi anche all'esterno per poter vivere all'esterno, occorrono spazi pubblici ampi per chi vuole vivere invece in mezzo alle persone, occorrono case che abbiano una efficienza energetica massima, occorrono case che abbiano verde, questo noi realizzeremo, realizzeremo piazze, realizzeremo case con balconi ampi, con piante, con verde, efficienti dal punto di vista energetico e autonome dal punto di vista digitale, quindi case che potrebbero stare a piazza Salotto e invece stanno in un quartiere popolare, un quartiere difficile dove noi vogliamo far elevare il livello. Sara, questa era stata un po' una promessa da parte del sindaco di Pescara, anche inizialmente contestata, non valutata positivamente dall'opposizione, però con un percorso che arriva da lontano, con una serie anche di sfratti, di situazioni illegali, di cittadini che non avevano diritto, si è arrivati in sostanza adesso ad avere per la maggior parte persone che hanno diritto e che verranno poi ricollocate e risistemate nei nuovi appartamenti. Dicevamo una decisione che potrebbe anche essere seguita poi in futuro da altri comuni italiani, potrebbe essere un precedente questo perché un abbattimento di una costruzione di questo tipo non è una scelta facile in ogni caso. Sì, è una scelta drastica, infatti comunque continuano gli oppositori, comunque i consiglieri di opposizione a criticare anche un po' il progetto. Loro sono scettici perché in particolare hanno paura che poi queste persone non troveranno tutte una casa e comunque gli abusivi magari si sposteranno altrove, magari nelle vicinanze, nella vicina via Lago di Capestrano, come spesso sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che dice che il problema potrebbe essere spostato da un'altra parte perché comunque a Rancitelli diciamo che il problema ci sono tante le criticità tra degrado e spaccio di droga in particolare, quindi magari tutti quegli abusivi che ora vivono in quelle case al ferro di cavallo potrebbero semplicemente poi andare ad abitare altrove. Sara ti interrompo un attimo perché purtroppo non solo nei quartieri periferici delle città italiane ci sono episodi di violenza anche particolarmente efferati, ma anche nei centri cittadini, così come è successo nel giorno della Domenica delle Palme quando c'è stata l'aggressione a Gelfry Guzman, cittadino 23enne, dominicano, che noi abbiamo qui in collegamento e che adesso vedo direttamente collegato dall'ospedale di Sulmona, ha rischiato davvero la vita ma adesso sta bene, sta meglio, si è mostrato disponibile a parlare di nuovo con noi di vera mattina, tra altre cose tu sarai seguito con attenzione tutte le evoluzioni di questa storia. Allora le ultimissime le chiediamo a Gelfry direttamente da Sulmona se Gelfry ci ascolta, nel frattempo lo recuperiamo subito. Sara, dicevamo tu che hai seguito questa vicenda, davvero una vicenda sconcertante. Sì perché tutto è successo in pieno giorno, era Domenica delle Palme alle 14, quindi primo pomeriggio, questa persona stava mangiando appunto in questo locale dove lavora Gelfry come cuoco e poi improvvisamente per la cottura e la salatura degli arrosticini ha tirato fuori una pistola dopo aver sferrato un pugno al ragazzo di 23 anni e ha sparato. E ragazzo ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo qui ragazzo. Gelfry, buongiorno innanzitutto come stai? Eccolo, una linea un po' ballerina, dicevamo una situazione, Sara, che davvero ha lasciato poi anche la città scioccata, non tanto perché il fatto sia assolutamente singolare nella sua esecuzione, ma quanto perché proprio l'orario, quasi un orario di pranzo in realtà, no? Gelfry? Sì. Ecco Gelfry, non so se ci ascolti e se ci senti in questo momento. Eccoci, noi ti vediamo intanto, è ricoverato all'ospedale di Sulmona, sta molto meglio, intanto vi anticipo rispetto ai giorni scorsi, non è il ritorno dell'audio, adesso cerchiamo di recuperarlo. Sara, a te. Sì, il Gelfry è stato sottoposto a tre interventi ed è stato lì trasferito appunto in un centro riabilitativo per cominciare questo percorso di riabilitazione. Adesso ci racconterà insomma come sta andando. Ricordiamo che per questo tentato omicidio, perché è stato un tentato omicidio, è stato arrestato un 29enne di Pescara, ma residente in Svizzera, Federico Pecorale, che è stato accusato anche di porto abusivo di arma da fuoco. Tra altre cose, anche una linea difensiva da parte degli avvocati di Gelfry, di Pecorale, che puntano anche sulla, diciamo, poca lucidità, se non assoluta, al momento del tentato omicidio. Sì, è stata richiesta la perizia psichiatrica, tra l'altro l'avvocato, cioè nei giorni scorsi Federico Pecorale aveva chiesto proprio di essere interrogato dal PM, però gli atti sono stati segretati, quindi non sappiamo bene che cosa è stato detto, che cosa è emerso nel dettaglio. Quello che sappiamo è che lui ha risposto alle domande del PM, però poi gli atti sono stati segretati. Gelfry, non so se è migliorato l'audio nel frattempo e se riesci a sentirci. Noi comunque ti vediamo, questa è già un po' indirettamente una notizia, sei in buona condizione fisica e di questo siamo contenti, ti abbiamo visto anche nelle ore scorse, sappiamo che hai appena fatto colazione, sei riuscito anche ad alzarti. Gelfry, ci ascolti, ci senti? Allora, probabilmente dalla sua postazione, ecco Gelfry, dicevamo hai il ritorno dell'audio nel frattempo? Ecco, allora adesso faremo, ecco faremo a questo punto una telefonica con Gelfry perché probabilmente con la linea da Sulmona, perché ricordiamo che è stato trasferito dall'ospedale di Pescara all'ospedale di Sulmona proprio per permettere quella che sarà, sarebbe e dovrà essere una riabilitazione progressiva nell'uso delle gambe che in questo momento è ancora compromesso, soprattutto per quel che riguarda poi la sensibilità degli arti inferiori. Nel frattempo ti sentiamo al telefono, Gelfry, ti abbiamo visto fino a poco fa, innanzitutto come stai? Allora, no, probabilmente non riesce ad ascoltarci in questo momento da Sulmona, andava meglio dall'ospedale di Pescara il collegamento, però così come è accaduto due settimane fa, però l'importante è che in ogni caso Gelfry stia bene. Sara, non so se riesci magari a sentire lui dalla tua postazione, se vuoi provare a chiamarlo in causa. Gelfry, dovresti essere collegato adesso con il telefono? No, probabilmente proseguiamo noi. Sara, ti stavo dicendo una linea difensiva, quella degli avvocati che punta anche a proseguire in questa chiedendo il momento di scarsa lucidità mentale da parte dell'attentatore, mentre il difensore di Gelfry Guzman chiede un risarcimento anche naturalmente economico e quindi da un punto di vista civile. Sara. Sì, Florenzo Coletti che è l'avvocato di Federico Pecorale ha chiesto proprio la perizia psichiatrica perché è stato accertato che Federico Pecorale gli è stata accertata una instabilità mentale da quando tanti anni fa ebbe un incidente. Allora, non so se nel frattempo Gelfry adesso ci ascolta. Gelfry, eccoci, ti abbiamo intanto intravisto. C'è Sara Del Vecchio che ti ha anche intervistato nei giorni scorsi. Buongiorno, come stai? Hai appena fatto colazione? Stai bene? Ho sentito poco fa. Buongiorno a voi. Io appena ho fatto colazione e io sto tutto bene la tua vita. Sto bene perché sono vivo. Poi del resto la situazione è fuori. Abbiamo visto anche delle tue foto sull'uso delle gambe che stavi cominciando a risentire anche per quel che riguarda la sensibilità. Che situazione abbiamo da questo punto di vista? Allora, a sentirla la sento ma a muoverla ancora no. Sempre è questione di muoverla che non la muovo ancora. Ancora riesco a muovere le gambe bene. Ho l'ospedale di Sulmona per fare dei trattamenti riabilitativi particolari, Gelfry. Io sono la Sulmona qua per fare la stabilitazione alle gambe. La condizione fisica invece com'è? Tu sei un atleta, tra le altre cose, sei anche un pugile non professionista. Che tipo di condizione fisica hai complessiva? La condizione fisica è buona. Per fortuna che facevo palestra prima il mio corpo di più e la revolta, per fortuna che facevo palestra. Gelfry, quanto è importante l'affetto della gente che c'è stato? Tra altre cose adesso stiamo anche rivedendo, probabilmente tu non hai modo di farlo, e comunque proprio quei momenti salienti. quanto è drammatici, che potevano essere tragici, quanto è stato importante l'affetto della gente che, la testimonianza è tangibile, ti è stata vicina in queste settimane per la tua ripresa? Comunque, io penso che la gente mi ha dato tutta la forza che mi serve. Mi ha dato prima Dio e dopo la gente mi ha dato tutta la forza che mi serve per continuare avanti, per alzarmi di nuovo. Mi ha dato tutta la forza e io ringrazio tutti i loro, tutti i miei amici, tutti il mondo. Mi ha dato la forza e il coraggio di combattere con queste situazioni. Abbiamo detto che avevi chiesto giustizia per quello che è accaduto, il tuo avvocato da questo punto di vista sta già facendo valere la sua linea per quel che riguarda un risarcimento anche economico al quale hai diritto. Sì. Io voglio solo giustizia, mi devo pagare per quello che è accaduto. Giustizia è accaduto. Gelfry, tua madre ti è stata vicinissima in questi giorni, in queste ore, tra le altre cose adesso sei a Sulmona. Quanto è stata importante una persona così positiva che ti è stata vicina e ti ha sostenuto in tutto questo periodo? Quanto è stata importante anche lei per te? È importantissimo. Mia madre e la mia vita è grazie a lei e io ho tanta, tanta forza. Lei viene qua tutti i giorni, tutti i giorni a Sulmona. Lei viene da Tiocio e Sulmona tutti i giorni. Lei non voleva fare rispondere a sole. Gelfry, c'è stato anche chi ti ha offerto un lavoro, tra le altre cose. Però tu hai già detto in passato che vorresti tornare a lavorare dove è accaduto, dove c'è stata l'aggressione e comunque, perché questo anche significherebbe che stai bene e che fisicamente è tutto a posto. Quando ci sarà l'occasione, che cosa conti di fare poi se le condizioni fisiche te lo permetteranno e cosa dici a queste persone che ti hanno anche offerto un lavoro, anche in segno di grande solidarietà e affetto? Io vi ringrazio tanto per quello che fate per me e per adesso non posso dire niente perché ancora non ho il tempo che ci vuole, quindi io sono avversato tutto. Noi ti ringraziamo tanto per la tua testimonianza e per quello che stai dicendo. Forse stavi concludendo, probabilmente ti ho interrotto. Comunque per il momento ancora decido che dopo che esco da qua, che cosa fare. Bene, noi intanto ti ringraziamo in bocca al lupo per quella che ci auguriamo e siamo convinti possa essere una perfetta guarigione. Grazie a Jeffrey Guzman dall'ospedale di Sulmona e grazie a Sara Del Vecchio in collegamento da Pescara che ha seguito questa vicenda, così come anche le altre di Cronaca. Grazie Sara e grazie Gentri. Grazie a voi, buon proseguimento. A presto, a presto, a presto. Noi ci fermiamo un attimo, adesso c'è la pubblicità, poi avremo il nostro talk, sempre su argomenti di taglio sanitario. Avremo modo di approfondire e anche di parlare per capire qual è la situazione per le malattie rare e anche per le malattie che vanno seguita con grande attenzione, soprattutto nel periodo del Covid, per quella che può essere una diagnosi precoce che in molti casi risulta essere decisiva. Non andate via, rimanete con noi, tra poco di nuovo a vera mattina. Grazie a poco.